Vincenza Tropiane e Denzo Sorbo, come si è arrivati a questa nuova veste della Maroteggiana? Questo giorno è un giorno attesissimo e per arrivarci appunto è stato un lungo lavoro e una lunga collaborazione. Noi abbiamo mantenuto sempre in maniera piuttosto segreta questa collaborazione che in realtà è iniziata già un anno fa con la BCC Montepruno. E il progetto è stato abbracciato e apprezzato dal direttore Michele Albanese che ci ha accolto come veri figli e ci ha fatto dono di questa etichetta. Denzo, il bilancio di questo primo anno e i programmi per il futuro? Beh, questo primo anno è stato un esperimento pieno di alti ma anche qualche basso che ci ha aiutato molto a crescere durante l'anno. Speriamo di continuare a crescere, di far conoscere il prodotto al di fuori del Vallo di Diano come già stiamo facendo io e Vincenza attraverso il canale degli stand pubblicitario o grazie anche ai partner che abbiamo conosciuto durante quest'anno. Speriamo di migliorare sempre più e che Dio ce la mandi buona. Gli elementi alla base della nuova identità visiva di Amaro Tegiano sono stati informati in modo fondamentale dal carattere stesso del liquore e cioè dalla ricetta segreta che è composta da erbe tutte autocotone del Vallo di Diano. Questo è stato un elemento da cui non abbiamo pensato di allontanarci tanto perché li tenevamo fondamentali. L'altro elemento ulteriormente importante è stato lo studio dell'iconografia del Vallo di Diano perché è composta da un patrimonio incredibile di opere d'arte, disegni architettonici per cui attraverso lo studio di questa iconografia è emerso un simbolo fondamentale secondo noi per l'intero territorio che è la cometa, la cometa che ha assunto un significato importante già dall'età medievale che con la sua luce rischiarava i cieli del Diano ed era portatrice di auspici positivi per le attività commerciali degli abitanti del Vallo. Sindaco Tegiano protagonista anche con il suo amare e con la sua nuova veste. Sì, è una piacevole, oramai non sorpresa, è una piacevole conferma. L'amaro Tegiano che è nato con questa amministrazione, che è stata una congiuntura favorevole, si sta affermando sui mercati della zona e credo anche oltre il nostro comprensorio. Faccio gli auguri a questi ragazzi perché hanno veramente creato un prodotto di qualità e soprattutto hanno affermato l'idea che l'imprenditoria giovanile può osare. La conferma è che i nostri giovani hanno delle idee valide e che possono proporre delle situazioni, che possono creare possibilità di occupazione di lavoro, di occupazione di sviluppo per il nostro territorio. Perché la banca ha creduto e crede nell'amaro Tegiano? Io credo più che nell'amaro Tegiano, d'altra parte io sono tra l'altro a Stemio, non ho creduto nel prodotto di per sé, non posso giudicarlo. Abbiamo creduto nell'amaro Tegiano perché è un amaro fatto da giovani, nato così per scherzo, così come lo racconta la loro storia, è nato con la volontà di fare qualche cosa su questo territorio per restare su questo territorio. Stanno dimostrando attraverso la loro attività di comunicazione, ma anche attraverso la loro vendita, il loro volume di affari crescono così in modo molto esponenziale e quindi significa che loro hanno visto bene e probabilmente pure noi che abbiamo creduto loro in loro abbiamo visto bene. Continueremo, come dicevo prima, a stare vicino a questi giovani perché è importantissimo, non possiamo assolutamente lasciare da soli. Se una banca come la nostra che è legata al territorio lascia solo i giovani significa che non può fare il suo lavoro, deve cambiare mestiere.